Il decreto liquidità dell'8 aprile scorso ha introdotto una serie di misure che facilitano l'accesso al credito per le piccole e medie imprese, gli artigiani e i liberi professionisti. Per favorire la ripresa del sistema produttivo in Italia a seguito dell'emergenza sanitaria da coronavirus, in particolare è stato deciso di mettere in campo il fondo centrale di garanzia per incrementare la liquidità a favore delle imprese con tre diverse linee di garanzie. La prima linea prevede una garanzia al 100% per i finanziamenti fino a 25.000 euro e senza nessun tipo di valutazione del merito creditizio. Ciò significa che le piccole e medie imprese potranno accedere a questa linea di finanziamento direttamente operando con la banca e senza attendere il via libera del fondo centrale. La seconda linea di garanzia è invece pari al 90% con un'aggiunta di un 10% da parte dei confidi a copertura del 100% del finanziamento per invece i prestiti fino a 800.000 euro. Ultima linea di garanzia è quella che prevede per le imprese di più grandi dimensioni prestiti fino a 5 milioni di euro per i quali la garanzia da parte del fondo centrale si limita al 90%. Per accedere in particolare al finanziamento fino a 25.000 euro le piccole e medie imprese non dovranno fare altro che compilare e inviare alla banca un modulo che è stato reso disponibile dal MISE e che trovate anche e è disponibile sul nostro sito internet. Gli uffici di confrattigianato Imprese Vicenza, in particolare l'area gestione di impresa, sono a disposizione delle imprese associate sia per la consulenza sia per l'assistenza alla compilazione della richiesta.